... Riparte Bologna con Teodosic. Priaka, cani dal palleggio. Poi gli fa passare la paia dietro la schiena con un numero da campetto. Ma Teodosic non ha limiti. C'è ancora penetrazione dietro la schiena per Ricci dall'angolo. La tripla di Pippo Ricci. Ma l'assist dell'anno da parte di Miloš Teodosic. Carriera, ma si riparte dal 68 pari. Teodosic, una palla incredibile dentro per Hunter. Ha visto quello spazio solo lui. Teodosic, fulmina Russell. Altro assist per Hunter. All'eupa, per Hunter. Che piccola sull'invenzione di Teodosic. È un asset questo per Abbas che risulta il tiro. Va dentro, cerca Teodosic. Poi non è un per Abbas. È tripla. È tornato subito Teodosic. Dopo quei pochi secondi di piatto, rivuole la palla. Da due punti, Teodosic! Ma non gli frega niente! Segna sempre e comunque! It's a tough shot. Oh, man! Teodosic, a gestire un possesso cruciale. 38 secondi alla fine. Virtus più tre palla in mano. Tripla! Miloška Dosic! Con il cuore del campione! Il tiro forse più importante della sua stagione! Il primo minuto di gioco. Teodosic riesce a furturare il cambio. Falleggio. Resto tripla! Miloš Teodosic! Altra palla di Teodosic! Ringrazia Abbas. Time out Molina. Hunter è quasi la mette sui piedi di Teodosic che ne viene via lo stesso in maniera brillante. Altra linea di gioco di Melinelli che rovescia il controtempo!